Si è rinnovata domenica 2 giugno pomeriggio nel centro storico di Assisi e a Petrignano la tradizione delle infiorate per la solennità del Corpus Domini, con la creazione sulle strade di tappeti e quadri floreali, aventi come tema di base quello eucaristico, religioso e decorativo, lungo Vicolo Bovi, via Monte Cavallo e via Portaperlici ad Assisi. Dopo la messa in cattedrale le confraternite e i religiosi hanno sfilato con il Santissimo Sacramento per le viuzze interne di Piazzanova. Infiorate anche a Petrignano, anche qui per via e vicoli del Borgo sono stati allestiti quadri floreali, a tema religioso con fieri freschi, passione e dedizione.